Nella provincia di Reggio Calabria ed in altre province si è svolta una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria per l'esecuzione di 36 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla procura distrattuale antimafia di Reggio Calabria, nonché di numerose perquisizioni. I reati contestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, ricettazione, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento personale, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, estorsioni, furto, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate, danneggiamento seguito di incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le province interessate dal blizzi dei carabinieri di Reggio, oltre a quella reggina, sono quelle di Roma, Verbagna e Vibo Valencia.